ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ebbene sì anche oggi una puntatona dedicata alle collezioni degli amici del canale cioè voi che state guardando e che fremete per partecipare alla rubrica perché perché volete far vedere quello che avete praticamente più che altro perché volete far vedere il vostro percorso quelle vostre scelte ognuno rivendica la propria identità il proprio percorso ognuno vuole mostrare agli altri quello che ha deciso lui per se stesso e questo è proprio il bello che a volte può rientrare anche nei nostri gusti e altre volte proprio no ora come partecipare lo sapete un bel video anche con lo smartphone ma in orizzontale poi lo inviate al portale wetransfer.com dopodiché il link lo mandate via email a me ma c'è scritto tutto in sovraimpressione quindi non potete sbagliarvi prima di passare a questi bellissimi video che io vedo già qua sparpagliati sullo schermo del mio dispositivo mobile a batteria digitale ha bisogno della batteria vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo long jean legend diver l'ultima versione da 39 mm quadrante nero certificato cronometro bracciale a chicchi di riso orologino veramente carino carino e a proposito della certificazione cronometro possiamo fare una tirare le somme perché ho monitorato l'orologio dal 29 ottobre figuratevi dal 29 ottobre quindi l'ho sempre ho indossato o nei momenti in cui non lo indossavo lo mettevo nella scatola del tempo no che gira quindi non ha mai perso la sua carica è sempre ha sempre lavorato continuativamente dal 29 ottobre bene diciamo una quarantina 45 giorni fate voi i conti siamo a metà dicembre no più 11 più 11 in 45 giorni cioè più 11 secondi in 45 giorni significa uno scarto medio giornaliero di tre decimi di secondo quindi non so cosa dirvi a me piace piace lui piace l'aspetto estetico funziona bene più di così che minchia volete adesso passiamo al primo video indice infuocato barra spaziatrice che deve subire e fuoco alle polveri ciao davide stefano biella complimenti per il canale per il tuo format grazie interessanti entrambi molto interessanti e molto divertenti grazie la possibilità di far vedere le nostre collezioni raccolte ma adesso ti parlo di un problema che mi è successo ma ecco fatto magari può essere utile anche ad alcuni utenti che come me sono non sono proprio pro ecco mettiamola così un mesetto fa compro questo citizen pro master sappiamo tutti di cosa stiamo parlando certo un orologino bello iconico simpatico da spendere poco ma comunque con il suo con la sua storia alle spalle se mi interessava un diver l'ho preso anche seguendo proprio il tuo canale mi arriva questo orologio e da subito ho dei problemi molto molto seri cioè il orologio si ferma ad un certo punto si ferma con un piccolo picchiettio del dito sul vetro lui riparte mi scarta 11 12 secondi in più al giorno e a mezzanotte lui decide che deve andare avanti di due giorni invece di uno ma come insomma un comportamento veramente strano che lo rendeva abbastanza inindossabile e inutilizzabile come fa come andare avanti due giorni invece di uno fatico c'è perché il trascinamento lì è lento quindi lui aggancia la ruota per far scattare come fa tecnicamente non capisco però se si dice che ti è successo mi fido però tecnicamente fatico a capire scrivo alla gioielleria che me l'ha spedito l'ho acquistato online e niente mi rispondono che secondo loro non facevo abbastanza movimento col polso cosa non vera perché comunque lavoravo svolgevo dei dei lavori in casa eccetera eccetera quindi il polso era era in movimento sempre ad un certo punto dopo la mail mi metto a fare un lavoretto sul tavolo della cucina mi tolgo l'orologio per non rigarlo anche se ero abbastanza incazzato e una delle vitine dell'apparato che stavo smontando decide di per fortuna di rotolare vicino la cassa dell'orologio prendo l'orologio per spostarlo e la vitina segue l'orologio alzo l'orologio dal tavolo e la vitina rimane attaccata al fondello dell'orologio stesso va bene allora capisco che è un problema di magnetizzazione prendo lo smagnetizzatore lo smagnetizzo e questo da un mese mi fa due secondi in meno al giorno la data non ha più nessun problema durante il cambio è diventato praticamente perfetto questo per dire che bisogna fare molta attenzione a anche il fattore magnetizzazione no non so non riesco a capire come abbia fatto un orologio nella sua confezione originale preso da una gioielleria e praticamente consegnato in tempi record a assorbire un livello così elevato di onde elettromagnetiche per renderlo appunto magnetico così com'era si va bene questa è la mia esperienza ti manderò poi un video della mia collezione magari fatto un po meglio un po più professionalmente però ti ringrazio spero che il video venga pubblicato che possa servire a qualcuno come esperienza un abbraccio e un saluto agli amici del canale love 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 sì molto interessante questa tua esperienza anche perché io non odio ha magnetizzato la data va avanti di due giorni cioè questa è una cosa che non continuo non capire però è evidentemente così anche perché non io pensavo che la magnetizzazione di un orologio avvenisse a livello di componenti interne no si magnetizza la spirale la spirale che le spire si sovrappongono si uniscono e perde completamente la cronometria ora da lì a magnetizzare tutto l'orologio trasformarlo in calamita che si trascina dietro le viti non immaginavo potessi potesse arrivare a quel punto lì cioè è una cosa veramente abnorme e non ho idea di come possa essere successo perché anche lì a volte si sottovaluta il discorso dell'antimagnetismo no ad esempio la spirale in silicio di tutti gli orologi moderni che usano la spirale in silicio è antimagnetica cioè non può succedere che si magnetizzi come è antimagnetica la maggior parte degli orologi vengono tutti dati per antimagnetici quelli moderni ok ma il punto qual è che non si capisce come si possa magnetizzare quale sia il livello di magnetizzazione tale da influire su un orologio io non lo so se appoggiare l'orologio questo qua no per esempio questo qua proprio dietro c'è tutto antimagnetico dietro dietro sul fondo sul fondello a spirale in silicio mi sembra ma appoggiarlo qua sopra un orologio un citizen pro master lo magnetizza sopra il computer non lo so non mi è dato saperlo non so qual è il livello qual è lo speaker di un di una cassa se la vicino lo magnetizza oppure basta un metterlo vicino ad un telefono potrebbe magnetizzarsi anche con quello non lo so qual è il livello per ogni orologio cioè noi parliamo sempre di ga mille gauss 15.000 gauss chiaramente un omega master cronometer non si magnetizza nemmeno al cern ok però per i livelli per gli altri orologi non lo so qual è il punto di rottura chiamiamolo così e qua la tua esperienza è abbastanza significativa cioè te ne sei accorto perché ha trascinato la vitina altrimenti te eri incazzato con la gioielleria perché ti aveva dato una risposta un po vaga anche loro non è che possono arrivarci da soli anche perché ti hai detto 11 secondi 12 secondi al giorno scartava non sono tanti 12 secondi al giorno cioè per un miota 8.000 12 secondi al giorno e dovevi stappare la bottiglia 12 secondi al giorno va benissimo non potevi accorgertene da quello che era magnetizzato perché quando un orologio magnetizzato scarta sì ma dei minuti avanti ogni ogni giorno il discorso della data è anomalo perché non io non avrei mai non sarei mai stato in grado di ricondurlo alla magnetizzazione adesso che me lo dici se dovesse capitare su un calibro di questo tipo perché poi non è detto che su tutti faccia così di scattare due giorni la prima lampadina è la magnetizzazione ma è tutto tutto tutta esperienza che entra nel bagagliaio tecnico della fare tra va bene dai grazie per la per la testimonianza spero che possa essere utile anche ad altri amici che hanno dei dubbi sui propri orologi o su come risolvere magnetizzatore da 5 euro e ha risolto visto prossimo ciao davide e ciao a tutti gli amici della community come io mi seguo da milano sono giovanni e ora volevo condividere con voi la mia collezione ma certo più che una collezione io la chiamo un po la mia la mia storia perché questi non sono proprio orologi da collezione ma sono un piccolo percorso che ho fatto certo da quando ero più giovane ma partirei direttamente proprio con i primissimi orologi di 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 quando ero molto molto giovane questo è un caso g shock in questo momento tra l'altro è senza batteria quindi vedete il display spento ma era proprio batteria la tua nemica un classico degli anni 90 credo la batteria ti abbandona ripeto non ha la batteria l'ho tolta perché so che si potrebbe guastare in questo momento lo conservo così ma batteria dell'indosso quasi mai è giusto così il primo diciamo orologio che ho acquistato lo so che qui apparirà subito la ciofeca ma questo in realtà è un orologio marchiato folgore è comprato spendendo 100 mila lire ve lo ricordo ancora in un negozio di aeronautica buttate del regalo per un amico che compiva doveva compiere gli anni in quel periodo ma lo vedi che è una copia un omaggio no come si suol dire come dicono quelli che vogliono pararsi il culo è un omaggio al daytona no poi folgore magari cosa ne so ma può darsi anche che hanno usato il simbolo in modo appropriato che hanno pagato i diritti che hanno chiesto che ma si tratta pur sempre di una ciofecata no perché certe certe case certi brand concedono il nome del marchio per fare gli orologi e se ne sbattono altamente di dove andrà a finire quel marchio lì quindi se io ti dammi i soldi io ti do il marchio da utilizzare sugli orologi fanno quello che vuoi fanno delle ciofeche così che poi alla fine quasi quasi ci va rimettere anche il marchio stesso che gli ha dato in concessione il logo no ci vorrebbe un pochino più di intelligenza ricordo che pochi giorni prima del suo compleanno mi ha mostrato un orologio che si era comprato da solo io questo ancora non gliel'avevo dato e quindi visto che si era già comprato un orologio da solo io gli ho fatto un altro regalo e questo me lo sono tenuto io questo orologio l'ho tenuto credo dieci anni un affarone infatti e adesso non cioè funziona è un barzo ovviamente non funziona più il cronografo e so che non vale niente ma per me ha un forte diciamo valore affettivo perché me lo sono comprato da solo ero giovane insomma l'ho tenuto per tanti anni bravo poi c'è stato il periodo degli orologi giganti con gli schermi con i quadranti grandi e ricordo che presi questo fossil mamma mia nate sì adesso fa veramente impressione l'idea di utilizzare un orologio così grande però in quel periodo andavano molto e questo l'ho utilizzato anche questo due tre anni bravo poi diciamo che ho avuto una parentesi di smartwatch vari che oggi non considero orologi diciamo però è per dire che in quel periodo il mio polso è stato occupato da quegli oggetti finché non ho iniziato ad appassionarmi di più davvero all'orologeria e ho fatto un mio primo acquisto diciamo un po più importante questo è un emilton jazz master performer auto crono carino in realtà venduto con il suo cinturino originale che era questo in pelle è stato il primo acquisto serio so che molti cultori non poi ho sostituito i bracciali con questo in acciaio sempre emilton so che un orologio discusso perché c'è chi lo considera una coppia chi è un homage del daytona ce l'hai già il daytona a me è piaciuto è stato un acquisto importante per quello che insomma potevo permettermi sì è un orologio che io non comprerei sinceramente non comprerei perché veramente come non è una copia per l'amor di cielo però è è un design scontato un po scontato così con i tre contatori messi in questo modo la ghiera in quel modo la lunetta in quel modo lì è scontato banale è banale non non ce li spenderei soldi c'è emilton fa altri cronografi che sono le drammatiche che ho io mamma mia bellissimo il pilot pioneer cronografo bellissimo con la cassa cuscino ecco questo qua io proprio non lo considero nemmeno lo scarto proprio perché non non ha la sua personalità non ha una personalità in quel momento è un orologio che mi è piaciuto molto un po grosso forse un po pesante un po ingombrante soprattutto col bracciale in acciaio devo dire che si sente ancora di più mentre con quello di pelle è più agile da indossare e come dicono tanti clienti emilton anch'io confermo la precisione pazzesca di questo orologio al di là dei ritardi della della variazione che loro stimano io l'ho sempre trovato puntualissimo dopo di questo è il primo acquisto veramente importante cosa cosa era un sogno per me e sono riuscito a regalarmelo avevo deciso di regalarlo per diciamo nell'anno dei 50 anni di età e così è stato io quest'anno è l'anno dei 50 anni e mi sono regalato questo omega acqua terra per me è bellissimo leggero si può portare tutti i giorni in qualsiasi circostanza forse molto devo dire appariscente per via del perché luccica luccica il bracciale luccica il bracciale che qui non è spazzolato non è satinato tutto molto luccicante però questo è stato veramente il regalo che mi sono fatto per i miei 50 atto vedo con questo insomma di 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 aver realizzato il mio sogno non sono una persona che ama molto cambiare gli orologi per le occasioni io tengo un po l'orologio come se fosse un amico un compagno lo indosso sempre anche la notte non tolgo me l'oro addirittura forse solo per la doccia e quindi non passo tanto da uno all'altro quello che scelgo è quello che indosso poi per magari molto tempo e questo credo che mi farà compagnia per molto molto bravo niente niente ringrazio per aver guardato il video ripeto non è una vera collezione la mia perché sono pochi molti non hanno un particolare valore ma era più un percorso diciamo un racconto dei miei anni passando da dai primi orologi a quello forse ormai più importante e quasi definitivo bravo diciamo il prossimo step che vorrei realizzare è quello dello speed master ma a quel punto avrò l'imbarazzo di quale orologio usare ogni giorno grazie a tutti amici e buona buona giornata buona giornata anche a te e dici quello speed master poi avrai l'imbarazzo della scelta cioè due orologi c'hai mi hai fatto vedere quel simile dayton all'inizio il fossil non li contiamo quei due lì no no via mettiamoli da parte poi c'è il performer di emilton e l'acqua terra di omega basta c'è due orologi se pigli lo speed master che ce n'è tre c'è l'imbarazzo e allora uno che c'è una 30 40 che cosa deve avere poi tranquillo prendilo che il tempo per indossarli lo trovi poi non è da sottovalutare il fatto che ora non è per quando per portare male no però quando succede qualcosa un orologino che va in riparazione in assistenza o dal dottoro ci sta via dei mesi e ora per esempio te c'è il tuo bello acquaterra il performer uno dei due un guastino e succede un guasto torna in assistenza ti rimane un orologio solo da indossare sempre e lì si rasenta il suicidio un orologio solo da indossare sempre non è possibile cioè non è contemplato proprio dal book del bravo collezionista di orologi cioè non si può quindi con il terzo magari comincia a salvarti cioè è proprio tutto il contrario di quello che dici te avrò l'imbarazzo di cosa indossare fly low fly low due orologi tutti tutti belli dai prossimo video ciao davide mi chiamo dario ho 29 anni sono siciliano volevo mostrarti la mia piccola collezione di orologi come la mia passione è iniziata diciamo un anno e mezzo fa grazie anche al tuo canale anche se mio papà è un collezionista e mio nonno era un orologiaio non mi sono mai appassionato più di tanto anche perché non ho mai avuto la disponibilità economica per poter pensare anche di spendere 200 euro in un orologio ecco cioè già erano tanti per me adesso so che effettivamente anche mille euro non sono nulla tuttavia diciamo in base alla mia disponibilità ho iniziato il mio percorso e siccome adesso ho un pezzo che per me è comunque importante perché mi è costato tanti sacrifici e volevo fartela vedere questa collezione anche se appunto non ci sono pezzi importantissimi ma se aspetto di avere gli orologi che ritengo più importanti più costosi stiamo qui dieci anni e ancora non ti ho fatto vedere nulla ma iniziamo con il mio primo orologio questo braille tribe che è appunto il primo orologio che ho avuto da piccolo un cronografo a batteria che mi ha regalato mio papà forse avevo sei sette anni poi ho voluto comprato questo che è un plasticone molto simile al submariner perché mio papà aveva il submariner quindi mi piaceva questo questo stile e mio papà mi ha comprato questo non mi ha voluto ecco esattamente questo è il concetto esattamente che andrebbe applicato a quelle copie rimarchiate tipo pagani design e kadisen mi piaceva il submariner e mio papà mi ha comprato questo è il pagani design hai capito è così un giocattolo capito questa è la correlazione tra le due cose volevo comprare il vero submariner e questi sono quindi gli orologi della mia infanzia successivamente a vent'anni comprai questo patacone gigantesco della fossil che a riguardo all'ora è inguardabile non lo uso mai perché è gigantesco ora veramente enorme tipo 47 mm farne un blocchetto e buttalo via però ero lì alla fossil ero giovane ho detto boh mi faccio sto regalo poi questo festina regalo di laurea al triennio va bene cugino l'ho indossato volentieri anche se adesso non mi da nessuna emozione sarà contento poi grazie al tuo canale mi sono appassionato appunto all'orologeria avevo visto qualche video dei rotary e sono andato a riscoprire questa marca e allora su vinted ho trovato questo bellissimo rotary al quarzo molto particolare perché ha la scritta swiss move quindi ha un movimento eta a batteria che è revisionato dal mio orologiaio ma ha detto che comunque è molto buono è degli anni 90 ed è anche migliore di quelli al quarto che fanno adesso pensa un po' credo sia placcato da quanto ho capito si si vedi il fondello ho messo questo cinturino in coccodrillo molto carino ed è un pezzo che mi da ha tante soddisfazioni molto piccolino e 32 mm sul mio polso da 17 sta molto bene e quindi mi è piaciuto un sacco questo pezzo va bene insieme a questo orologio non so perché boh il venditore mi ha dato anche questo lorus un po' malconcio francamente mi ha dato proprio solo il pezzo senza il cinturino non sapevo che farmene poi ho detto boh ci compro questo nato e diciamo lo uso magari quando vado a fare qualche trekking è comodo senza troppe pretese alla fine la cosa carina è che ha questo lumibright questo quadrante tutto il lumibright bravo lumibright sembra della rotary in quel momento guardavo le recensioni ho comprato questo greenwich mamma mia come brutto anche se devo dire che ad oggi non mi piacciono molto i quadranti scheletrati cioè questo qua c'è tutte le caratteristiche allora tutto placcato d'oro beh lo finto oro placcato con quel bel colore quadrante scheletrato il calibro lì non so cos'è ma ci sta anche che abbiano messo una cinesata non lo so e poi il dove non è scheletrato e beh i numeri romani con le sfere breghè è per questo che a me a volte i numeri romani mi stanno sui sui maroni no perché li associo a queste patacana pataconate patta paraccazzata raccattate hai capito cioè orologi veramente che aspirano a nell'aspetto ad essere considerati come quelli di alta orologeria i classici di alta orologeria no sfere breghè quadrante scheletrato per far vedere il pregio della lavorazione numeri romani classici color oro per essere d'oro e invece tutt'altra l'altro 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 lo baciato cioè lo si può e non lo indosso nemmeno tanto volentieri perché ho capito che le misure piccole sono quelle che mi stanno meglio il portare 42 millimetri diciamo non mi sta male ma preferisco misure più piccole e questo è stato il mio primo automatico cioè alla fine comunque il fatto che fosse scheletrato mi ha mi ha fatto appassionare all'orologia automatica e meccanica comunque da un sacco di video a questa parte abbiamo capito che le mezze cioffecche sono servite a molti per appassionarsi chi invicta, chi un pagani design chi un rotary scheletrato a tutti è servito a qualcosa e questo mi fa piacere e questo può essere anche considerato la funzione di queste merde di orologi il problema è quando invece hai già fatto un bel percorso nella passione e ti ostini a voler considerare quelle copie rimarchiate come il non plus ultra dell'orologeria si ma sono fatti bene, costano poco prendiamoli e ti fai tua collezione con quegli orologi lì e minchia successivamente volevo qualcosa col bracciale in metallo e ho preso questo Citizen EcoDrive Diver certificato in titanio perché era in sconto e perché comunque ho detto beh dai sicuramente è carino avere un orologio EcoDrive in collezione per lo più è in titanio quindi ci sta ci sta è piaciuto tanto anche se è un po' grandicello è 43 mm anche questo non mi sta male ma no però preferirei un Diver da 37-39 ma no ecco vabbè diciamo che preferirei ad oggi il mio Diver da sogno è il Black Bay 54 54? piccolo? successivamente questo è il mio ultimo acquisto dai quello preso col primo stipendio praticamente è questo fantastico Tissopier X toppino da 35 ho aspettato agosto per far uscire appunto il modelli da 35 grazie anche a te che ce l'hai anticipato e ho preso questo PRX verde perfetto ed è fantastico mi piace un sacco ce l'ho da una settimana mi piace davvero tanto mi sta benissimo perché penso che la misura piccola sia davvero fantastica è anche molto preciso ho visto che perde dai 4 a 5 secondi al giorno oggi è più preciso del solito perché ne ha persi solo 2 e questo qua è invece un altro PRX al quarzo perché non c'erano più soldi però è stato molto carino comprarne due perché la mia compagna che mi ha sempre detto parole perché spendevo soldi in orologi si è appassionata molto a questo orologio quando lo siamo andati a provare in gioielleria hai visto? ce l'è piaciuto davvero tanto e lei che non vuole mai comprare i orologi ma io era da un po' che provava a dirgli ma perché non ti compri un orologio te lo regalo io quando fai poi 30 anni ti regalo il Rolex e lei sempre no no mi devi regalare un viaggio ma è questa cosa insomma alla fine le è piaciuto molto questo orologio quindi gliel'ho regalato ed è rimasta molto contenta quindi adesso abbiamo diciamo un orologio di coppia e sono contento che finalmente ha un orologino carino è fatto bene perché di solito girava con quelle cose di bigiotteria che non si possono guardare e niente questa è la mia piccola collezione bravo il mio prossimo acquisto probabilmente sarà questo orologio qui che mi piace un sacco ed è abbastanza economico e penso potrò permettermelo mecca quarts nel frattempo però voglio raccogliere soldi per questo e questo il Tudor Black Bay e il appunto lo Speedmaster quindi nell'attesa di ampliare la collezione ci potranno volere un po' un po' di anni e quindi grazie ecco spero ci sarai ancora per condividere questa notizia io ci sarò ancora ciao porti anche sfiga io spero che ci sarai ancora ma ora ho visto le tue le tue le tue le tue le tue mire future no il Black Bay quello da 37 millimetri che secondo me è piccolo anche per qualsiasi polso perché un diver deve essere un pochino grande 37 è veramente da buttare via e poi lo Speedmaster stai attento con lo Speedmaster perché io me lo vedo grande al polso me lo vedo presente te che vuoi il diver da 37 con lo Speedmaster secondo me non duri un giorno occhio calcola che è un 42 millimetri tutto quadrante e poi vabbè il gran seco vuoi ma quelli sono per il futuro 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 la signorina che ha voluto il PRX da 35 e poi noi ci domandiamo ci cervelliamo per trovare gli orologi da donna quelli da 26 millimetri quelli con il quadrante in madreperla questo e quell'altro e poi cosa vogliono il PRX da 35 sportivo bracciale integrato hai capito la differenza cioè non è poi tanta e si ci sarà anche chi predilige gli orologi un pochino più gioiello anche a seconda di come uno si veste però hai visto la ragazza il PRX vabbè bravo dai sei giovane ci hai fatto vedere il tuo percorso di ciofe che orologi un po' così e cos'ha per arrivare il PRX che si sente che è proprio il tuo Grail Watch del momento e siamo tutti contenti per te e congratulazioni continua così ciao Davide sono Davide Alecco e questo è il mio secondo video che ti mando della mia collezione di orologi partiamo con questo bellissimo Seiko Save the Ocean in edizione speciale non limitata anche se adesso non lo fanno più con alla particolarità che c'è la diciamo questa ghiera cioè questo questo orologio qua proprio dà proprio la sensazione di essere uno strumento proprio veramente con la ghiera zigrinata il colore dell'acciaio le spigolature bello in pvd credo sia nera pvd che anche la corona gli ho messo questo bracciale originale seco per alleggerlo un po' perché con l'altro mi sembrava un po' troppo ciclo bello assai promossissimo poi questo bellissimo Brightling Super Ocean 42 mm un orologio che ne parlano poco non è diciamo tanto io l'ho anche recensito come ne parlano poco cioè sempre il solito discorso quando uno si sente si sente c'ha un orologio e si sente messo nell'angolo in disparte dice ma se ne parla poco del mio orologio tutti vogliono essere protagonisti ho fatto una recensione completa l'ho mostrato anche tante volte quando sono andato in negozio da Giacomo micchia se ne se ne parla poi non è che si può parlare c'è una marea di orologi chiacchierato come si suol dire però io lo trovo un orologio bellissimo è certo un orologio veramente molto bello monta non so se un'eta o un sellita comunque certificato COSC però io sinceramente non mi interessa l'ho comprato perché mi piaceva tantissimo e lo indosso con piacere con piacere bravo con piacere poi questo orologio che è molto conosciuto topino spirit da 37 mm certificato COSC anche lui definirei un orologio un everyday watch un orologio da tutti i giorni veramente l'unica cosa la corona a pressione che io pensavo fosse la vita invece no è a pressione però 100 metri 100 metri ci ho fatto anche il bagno nel mare tutto ok eh certo poi poi questo bellissimo top Zeni Defi degli anni 70 sembra nuovo completamente restaurato ah ecco guarda qua gli spigoli vivi veramente una cosa mamma mia un lavoro pazzesco ha fatto guarda qua cassa sembra nuovo il bracciale completamente nuovo con il suo bracciale è gay gay frayless mi sembra se non lo vedo ah forse qua si riesce a vedere ma anche rimagliato è corona originale vetro originale e cassa con tutti i suoi angoli e spigoli vivi come così che deve essere a mio avviso un orologio del genere deve avere gli spigoli vivi perché avere un orologio così con tutti gli angoli smussati secondo me ha poco sesso complimenti mamma mia guarda qua Omega Speedmaster da 38 mm con calibro coassiale 33-30 ma un orologio che se ne vedono in giro pochi a dire la vera non ne vedo tanti in giro di questo modello qua da 38 mm io ho provato il 42 e mi sembrava un po' troppo cicciotto per il mio polso che comunque è un polso da 18 cm e niente l'ho comprato ho preso questo qua bellissimo guarda qua il bracciale spettacolare la cassa fondello chiuso bello un bellissimo orologio certificato COSC che dire lo indosso con piacere e sono contento di averlo comprato è fatto bene bello mi fermo qua al prossimo video voglio sapere cosa ne pensi della mia collezioncina di orologi un bacio e un saluto ciao a Darde un bacio un bacio cosa ne penso tutti i begli orologi complimenti per il restauro dello Zenith DoFi che è veramente riuscito la grande sembra nuovissimo per quanto riguarda invece quest'ultimo Speedmaster da 38 mm io ne avevo parlato in tempi non sospetti ma anni fa quando ancora non era uscito lo Speedmaster coassiale è perché lo Speedmaster con il calibro 1861 per me non era all'altezza io non non mi sentivo di acquistare quell'orologio per delle mancanze sul calibro nel senso che era l'unico non certificato metas di tutto l'universo omega quindi poi dopo è uscito quello coassiale e l'ho preso però in quel momento lì l'unica valida alternativa mi sembrava questo qua automatico 38 mm con il calibro coassiale che costava anche abbastanza poco in quel momento adesso costa una mare anche questo e l'ho sempre tenuto in considerazione 38 mm non so se 38 forse sono proprio giusti non ho mai provato al polso però mi piace mi piace e la versione con quadrante nero è quella più più bella perché le altre hanno i subcontatori ovali ovali orizzontali non è che siano e colorati i quadranti colorati capito quello con quadrante nero invece è un pochino più sobrio più da ometto diciamo complimenti per l'orologio è un bel acquisto è da tenere poi tra i vari speedmaster io tenevo in considerazione anche lo speedmaster 57 che attualmente è a catalogo che è 40.5 mm è un gran bel orologio col calibro manuale della serie 9000 acquassiale però io li guardo li riguardano guardo anche i video di questo speedmaster 57 e c'è quel discorso lì che c'ha le lancette le classiche brodaro come avevo sul simaster 300 che in certe condizioni di luce veramente scompaiono il quadrante diventa tutto nero è capito e ogni tanto dicono ma forse è leggibile non mi faccio più fregare devo stare lontano da quel tipo di lancette lì perché non si leggono io mi danno fastidio boh mi sembra di aver detto tutto non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video anche se brevi il presentatore anche se bravo e tutto il contesto cazzo l'ha detta bene questa non mi rimane quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love non mi rimane